Dottoressa Bernardi, parliamo un attimo dei tamponi che sono rivolti alle persone che sono in difficoltà e qual è la situazione? Il Comune di Crotone ha fatto dono di questi tamponi alle persone che appunto sono in difficoltà chiedendo all'ASP di organizzare il servizio infermieristico e quant'altro è necessario per l'effettuazione dei tamponi. Abbiamo già iniziato, non so quando finiremo perché sono mille tamponi, sono tanti, sto cercando di organizzare anche un'altra squadra che in contemporanea possa fare magari altri pazienti in un altro posto, stiamo pensando a Tufolo perché lì ci sono gli ambulatori nuovi quindi vediamo un attimo come organizzarci in poco tempo. Dovremmo iniziare venerdì anche a Tufolo. Questo è importante, insomma, visto anche un po' l'allarme che c'è nella nostra città, ma ci saranno solo questi mille tamponi quelli per le persone in difficoltà o ci sarà la possibilità di ampliarne il numero? Io mi auguro di sì, mi auguro di sì che ci sia questa possibilità di farne anche altre e di fare magari per altri target di popolazione. Tenga presente che noi stiamo comunque aspettando dalla protezione civile una serie di tamponi rapidi che dovrebbero essere fatti ai medici di medicina generale con i quali avremmo già individuato due target di popolazione quello delle scuole, bambini compresi, insegnanti eccetera e quelli degli over 65 che sono i polipatologici che hanno più problemi rispetto agli altri. Se arrivano anche questi tamponi e ci auguriamo nel giro di poco tempo, l'ASP dovrebbe partire anche con questo screening di massa, tra virgolette. C'è grande attenzione, insomma, verso le fasce deboli? Assolutamente sì, come sempre. Non abbandoniamo nessuno e siamo a disposizione di tutti. Cerchiamo al meglio di aiutare quanti hanno bisogno o necessità.